Ma che bello questo servizio sul fatto quotidiano. Signor Berlusconi e le donne, l'immagine bellissima, anche l'articolo è bellissimo ed io l'articolo ve lo metto come link nel riassunto di questo mio video. Cerca il rapporto degli uomini con le donne è tutto descritto in questa mia opera, vedete, la stirpe del serpente, la stirpe del serpente, cari amici. E questo, la cometa dell'imperatore è l'ultima mia opera, la cometa dell'imperatore, ma cerca il rapporto tra uomini e donne in patriarcato c'è la mia opera, la stirpe del serpente. Ok cari amici, complimenti al fatto quotidiano.